La guerra aerea combattuta con missili droni caccia si fa guerriglia con i suoi rischi e i suoi costi. Combattimenti ravvicinati che possono diventare una trappola come quella in cui è finita l'unità di sminamento chiamata a demolire due edifici ritenuti potenziali Covid nei pressi del campo profughi di Almagazi nel centro della striscia. Qui Israele ha subito il peggior passivo in termini di soldati caduti in battaglia, 21 nella stessa operazione, schiacciati dalle macerie dei due edifici collassati prima che fossero loro stessi a piazzare altre cariche. Li ha preceduti il commando della brigata di Hamas radicata nell'area di Khan Yunis che ha esploso un razzo anticarro contro le due strutture collegate tra loro. Il portavoce dell'IDF Daniel Agari precisa che nella stessa area sono stati uccisi decine di combattenti. Yoav Gallanti, il ministro della difesa dopo aver espresso le condoglianze ai parenti delle vittime, molti dei quali riservisti da poco in servizio, rilancia la loro caduta, dice, ci costringe a raggiungere gli obiettivi. A cominciare dalla liberazione degli ostaggi, ad oggi nessuna delle persone rapite il 7 ottobre è stata salvata dalle forze speciali, alle proteste dei familiari, anche ieri alla Knesset. Netanyahu ha risposto evocando un piano ma senza fornire dettagli, salvo ricordare che la guerra non si fermerà. Israele proporrebbe due mesi di tregua in cambio del rilascio di tutti i prigionieri. Intanto è sempre più caldo l'altro fronte, quello aperto dai ribelli sciiti Uti. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno sferrato nella notte un nuovo massiccio attacco aereo in Yemen contro decine di postazioni dei ribelli a partire dalla capitale Sanaa, controllata dal 2014 dagli Uti e contro decine di località sul Mar Rosso e affacciate sul Golfo di Aden. Grazie.